e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione Kimmy Oroba Mejang non porti bala e la palla entra in rete ha letto benissimo la situazione ha depositato il pallone in rete qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta